Gravina, gravina Appena d'avanti, a parte d'avanti Presidente, Presidente, Presidente E d'avanti per favore Buongiorno, buongiorno Ciao, buongiorno. Grazie Beppe, Beppe ha la preoccupazione di non finire in tempo, quindi discorso brevissimo, un saluto a tutti voi, alle autorità, al sindaco, al presidente della regione, ma soprattutto un saluto a chi in questo momento ha la sfida più importante di tutto, che siete voi, che siete l'anima e il cuore di questo immenso cantiere. Io non vengo qui dal 14 agosto dello scorso anno, vi ricordate, pioveva che Dio la mandava, come tutti i 14 agosto, notoriamente a ferragosto di Luvia, quindi abbiamo anche portato un bel po' di sfortuna. Rivedere dopo questi cinque mesi, sei mesi ormai di lavoro è veramente un tuffo al cuore. Il cantiere vede il traguardo finale? Prima passando ho detto ad alcuni di voi, ma ce la facciamo? Certo, ce la facciamo? Un paio, un paio mi hanno quasi preso in giro dicendo è ovvio che ce la facciamo. Ce la faremo come è sempre nel nostro DNA, anche magari facendo un po' le corse alla fine. Vorrei ringraziare le aziende che con tutte le difficoltà, con tutti i problemi che conosciamo, stanno mettendo veramente di tutto per poter fare l'ultimo miglio. Però voi rappresentate con questo cantiere molto di più del cantiere dell'Expo. Non me ne voglia Giuliano, non me ne voglia Roberto, non me ne voglia tutti i soggetti che hanno dato una mano dall'inizio a questa straordinaria scommessa milanese e lombarda. Ma oggi in ballo e in gioco c'è un'idea stessa, che è l'idea dell'Italia. Fameci caso, la prima volta in cui siamo venuti con Beppe, con Maurizio Martina a visitare il cantiere e prima ancora a fare la prima riunione operativa sull'Expo, io gli ho contate le facce lunghe. Quelli che dicevano non ce la faremo mai. Quelli che guardandoci ci hanno detto, ehi, ti do un suggerimento, ascia stare. Vieni via finché sei in tempo. Molliamo sta cosa dell'Expo. È nata male, ci ha avuto un sacco di complicazioni. Molla, sei appena arrivato a fare il Presidente del Consiglio. Chi te lo fa fare di metterci la faccia su questa roba qua? Erano i giorni delle difficoltà, di qualche polemica, di qualche processo anche, che comprensibilmente e giustamente ci sarà. Però sono stati giorni in cui, non grazie al Governo, ma grazie a voi, grazie agli organizzatori, grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, grazie alle aziende, abbiamo detto no, su questa storia dell'Expo non soltanto non ci tiriamo indietro, ma ci mettiamo la faccia perché è la storia dell'Italia. La nostra faccia non basta, ci vuole il vostro cuore. E il fatto che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, chi ha seguito questo progetto vede che il cantiere non è più un progetto, uno schizzo, una slide, ma è una realtà, il fatto che questo sia accaduto dimostra una cosa molto semplice, che quando l'Italia è mattuta dalla stessa parte le cose si realizzano e i sogni prendono forma e i sogni diventano progetti che sono progetti realizzabili. E allora c'è da fare uno sforzo finale da parte vostra e io vorrei davvero dirvi che sono con il cuore con voi, so perfettamente quello che in questo momento passa anche nella vostra mente e nel vostro animo, l'ho visto facendo 20 metri, almeno in sei di voi mi hanno detto, Presidente la prossima, perché giustamente chi lavora ha bisogno di immaginare non soltanto questo cantiere ma quello dopo. Perché per noi politici l'Expo inizia il primo maggio, ma per voi il primo maggio deve iniziare qualcos'altro e quindi vi capisco e quindi vi siamo vicini e quindi siamo assolutamente consapevoli del fatto che l'intero settore delle infrastrutture in Italia deve ripartire con più determinazione. Vorrei dirvi che i primi segnali di ripartenza ci sono già e quindi che sono molto più ottimista di un anno fa sul futuro del vostro settore. Ma voglio anche dirvi che quando scatta questo meccanismo, ormai un po' di cantiere li abbiamo visitati anche nella precedente esperienza di Sindaco, è il segno che vediamo il traguardo finale. E allora l'altro pezzo di ragionamento dobbiamo farlo noi. Lo sta facendo Beppe, lo sta facendo Maurizio, lo stanno facendo tutti gli amici che stanno lavorando all'Expo. L'Expo non è semplicemente una fiera, non è semplicemente un evento, non è una gigantesca occasione di bellezza per chi crede nell'acqua alimentare e nel cibo. L'Expo è una strepitosa occasione culturale. Sarà l'Expo al mondo con il maggior numero di delegazioni dei paesi stranieri. Nessuno ha fatto quello che farà Milano nel 2015. Sarà l'Expo al mondo con la più alta concentrazione di ideale. Dicono una parola strana, perché noi la parola Expo fino a qualche mese fa era sinonimo di scandalo in Italia. Dobbiamo farla diventare sinonimo di ideale. Cosa significa in un mondo dove c'è un sacco di gente che muore di fame e dove c'è un sacco di gente che muore per le conseguenze dell'obesità discutere della fame nel mondo del cibo? Cosa significa per noi ragionare di bellezza, ma anche di rapporto con il territorio, con l'agroalimentare, con le nostre aziende che lavorano in questi settori? E come si fa a presentare un'Italia che sia culturalmente in grado di essere non soltanto la terra del passato, ma del futuro? Capite che l'Expo è una sfida meravigliosa. E io voglio dirlo a chi ci segue da casa, a chi ha modo di conoscere un po' l'Expo, abbiamo venduto 3 milioni di biglietti in Italia. Ne venderemo più di 10 alla fine di questo percorso, perché non ci sarà in nessuna famiglia italiana almeno una volta l'idea di dire che succede a Miano, cos'è questo Expo? Andiamo a verificarlo. E nel venire a vedere l'Expo non ci sarà da vedere una fiera, un convegno, un evento. Ci sarà da domandarsi se l'Italia ha un futuro o ha soltanto un passato. E poi c'è un sacco di gente che viene dall'estero. Avete visto quell'articolo, avete sentito dire quell'articolo che è uscito sul New York Times, il principale, uno dei più importanti quotidiani americani? Fino a quel momento c'erano stati 300 mila biglietti venduti negli Stati Uniti. Quando finalmente nella stampa estera l'Expo è passato per quello che è. In quell'articolo il New York Times dice che Milano è la prima destinazione da visitare nel 2015 al mondo. Pazzesco, no? Bellissimo. Dopo quell'articolo nel giro di tre mesi, due mesi, mi raccontava Beppe in macchina, i biglietti sono più che raddoppiati. Allora se l'Expo è il luogo dello scandalo, la gente ne ha paura. Ma siccome quella pagina lì è chiusa e l'Expo è il luogo dove grandi aziende stanno lavorando gomito a gomito per raggiungere l'obiettivo e per mantenere l'impegno che hanno preso. Lavoratrici e lavoratori stanno dando l'anima per riuscire a portare a casa il risultato. Gli organizzatori stanno cercando di fare questa grande scommessa sull'ideale di cui abbiamo parlato. Se l'Expo diventa questo, lo capite che non è soltanto una partita che riguarda Milano, cheppure sarà accogliente, bella e solidale come è sempre stato, o la Lombardia che sarà capace di mostrare il volto più dinamico, bello e produttivo, ma è una partita che riguarda l'Italia. Questa sfida è la sfida del 2015 per il nostro Paese. Io voglio dirvi che la vinceremo, però per vincere la bisogna che adesso mi zittisca, perché se continuiamo a stare ancora un po' qua o a finire che arriviamo in ritardo con i cantieri. Voglio dirvi grazie perché parlando un attimo con qualcuno di voi entrando con le storie di persone che vengono dall'estero anche da varie parti dell'Italia. Ho incontrato una bella delegazione di Pugliesi, tra l'altro, e poi ho trovato uno che mi ha detto che sono di Bergamo e Brescia, che è la prima volta che sento mettere insieme Bergamo e Brescia. Infatti gli ho detto che lei mi dice che sono di Bergamo, ma sopporto anche i Bresciani, che allora è già diversa. Ma per ciascuno di voi vorrei davvero che ci fosse quel senso di orgoglio di chi sta facendo una grande impresa. A me colpisce nel racconto che viene fatto da tanti amici e da tante persone che amano i libri, sempre il racconto, l'abbiamo già citato una volta, della costruzione delle cattedrali. Chi costruiva le cattedrali nel Medioevo faceva una cosa, era anche un po' sfortunato, perché non vedeva la fine. Iniziava una generazione e finivano tre generazioni dopo. E non erano problemi di ritardi della burocrazia, erano opere straordinarie. Chi metteva mano alle cattedrali iniziava e sapeva che sarebbero stati figli o addirittura nipoti a finire. Voi oggi avete però quello stesso spirito che posando una piccola pietra, un piccolo tassello, state contribuendo non semplicemente all'Expo Milano 2015, ma alla più grande scommessa che l'Italia fa in questo anno. E allora sentite questo orgoglio, avete la fortuna di poterne vedere la fine. sapete che dopo questo non finisce tutto perché finalmente l'economia italiana sta ripartanendo e potremo reinvestire sul settore delle infrastrutture anche alla luce delle nuove tecnologie, ma fatelo con l'orgoglio di chi, provenendo da tutte le parti del mondo, provenendo da tutte le parti d'Italia, con l'Expo sta costruendo una grande cattedrale laica, che è il luogo nel quale l'Italia riflette su se stessa, accetta la sfida del futuro per il domani e dimostra di fare delle cose che sono anche belle. Perché, e ho finito davvero, il cibo è buono, nutrire il pianeta, le energie agroalimentari, tutte cose vere, straordinarie, forti, ma la parola chiave è bellezza. E questo è un luogo che sta diventando bello, non sta diventando bello a caso, sta diventando bello grazie al vostro lavoro. A nome del Governo, a nome della Repubblica, io voglio dirvi grazie per quello che state facendo e adesso al lavoro tutti insieme, raffinare e facciamo vedere al mondo di che cosa è capace l'Italia. Grazie e bocca al lupo a tutti.